Laurea ad honorem per Kennedy. L'università di Yale non vuole essere da meno di quella di Harvard, dove il presidente degli Stati Uniti ha conseguito la laurea e gli conferisce il titolo di dottore in legge honoris causa. Nel ringraziare il senato accademico, Kennedy accenna la cooperazione tra il governo e il mondo commerciale americano. È questa la prima volta che a Yale un neolaureato pronuncia un discorso dinnanzi ai suoi neocolleghi, ma non capita tutti i giorni di festeggiare la laurea in così illustre compagnia.